Buonasera, allora io mi chiamo Zunino Cosetta e il latte di questa azienda è di Azienda Agricola Valverde di Cosomarco. Siamo situati su Allangasco, sopra Campomorone. Signora, se ci può dire come è nata l'idea, di cosa si occupa in generale comunque la sua ditta e come vi siete espansi sul territorio. Voi siete qui della Valpolcevra, giusto? Sì, noi siamo di Campomorone, abbiamo un'azienda che è situata, come le dicevo prima, a Allangasco. Mio marito è il suo lavoro, principale il suo lavoro, perché abbiamo delle vacche da latte e facciamo proprio il latte proprio direttamente, lo portiamo direttamente nei distributori. Le fiere o comunque le vendiamo in azienda, un latte proprio appena munto direttamente. Avete delle procedure, delle tecniche particolari? Sì, abbiamo delle procedure, tanto comunque da rispettare, sia come igieniche sanitarie. e poi comunque stiamo molto attenti a valutare che il prodotto vada bene, che sia perfettamente idoneo.